A San Lorenzo in Campo, all'interno del Palazzo della Rovere, si trova la stanza dei francobolli, realizzata da Agostino Ghilardi, che ha impiegato due anni per realizzarla, dal luglio del 1932 all'agosto del 1934. Per l'opera sono stati impiegati circa 90.000 francobolli, la maggior parte di questi provenienti dall'Italia e gli altri dai paesi confinanti. Una stanza diventata una straordinaria opera d'arte, caratteristica e assolutamente originale. Qual è la novità dell'anno? La novità è il riallestimento di questo splendido tesoro della cultura laurentina, che era stato sepolto dalla polvere, possiamo dire, per troppi anni. Grazie ai volontari della Proloco di San Lorenzo in Campo è stato possibile riallestirla all'interno di Palazzo della Rovere. Quasi 100.000, 97.000 per la precisione, francobolli. È stata costruita da Agostino Ghilardi, realizzata dal 1932 al 1934. Non è una rarità, è direi un unicum, che solo San Lorenzo in Campo ha. L'invito chiaramente a visitarla. Rimarrete veramente stupefatti. Sono state create delle figure, come per esempio qui dietro di lei abbiamo la lupa di Roma. Abbiamo la lupa capitolina, abbiamo lo stemma del comune di San Lorenzo in Campo, abbiamo lo stemma Sabaudo, chiaramente l'epoca è quella dal 1932 al 1934. Abbiamo l'Italia rappresentata con i francobolli. E una cosa molto importante è questa. Non sono francobolli nuovi, ma sono tutti realmente stati utilizzati nel servizio postale, quindi tutti con i timbri. Quindi la particolarità e la bellezza è anche andare a vedere dove queste lettere vennero spedite. Nasce come un lavoro che fu attaccato, questi francobolli furono attaccati alle pareti di una stanza, quando poi furono trasportati vennero messe su dei pannelli ligni e oggi questa stanza è stata ricreata all'interno, qui all'interno del palazzo. Quello che possiamo vedere è che ogni tonalità di francobolli, ogni colore fu sapientemente utilizzato proprio per ricreare questi splendidi disegni.